Signor Stefano, mi scusi, mi sono permessa di svegliarla. Sono Sofì. Ma scusi, lei chi sarebbe? Una domestica? La signora Sara non ne ha detto nulla. Se mi metti in casa una donna di servizio, vorrei perlomeno essere avvisato. È brava almeno? Sì, è brava, ma se ne deve andare. Non voglio una spia di mia moglie dentro casa. Noi dobbiamo vendere i libri. Ormai sono un oggetto desueto. È come se vendessimo oggettoni telefonici. Clavice in bagno. Vorresti essere scandalosa. Il risultato è solo mediamente volgare. Tu non fai il possibile, fai quello che ti dico io, va bene? Avanti, fammi a pezzi. Una cameriera francese che ascolta Bach, che si legge per Eck. La signora Sara è stata molto buona con me. Me l'hai piazzata in casa? Le hai dato le chiavi? Non mi hai mai risposto al telefono, Sara! Una specie di avventuriera. Non si perde, se la dava sempre. Lo combatto strenuamente, risalendo la corrente. Non so che fare. Non capisco. Magari ti stai scongelando. Di questi tempi capita ai migliori ghiacciai. O forse è destinato a rimanere così, un po' freddo. E la domanda che innerva tutte queste splendide pagine, secondo me, è la seduzione. È un inganno?